Ciao a tutti! Oggi farò un vlog in italiano. Oggi volevo andare in spiaggia, quindi mi sono svegliata presto e sono andata alla fermata dell'autobus. Dopo 20 minuti di autobus, siamo arrivati alla spiaggia di Caligna. Per arrivare alla spiaggia devi scendere molte scalle. Ero così stancato per tutte le scalle, ma la vista ne valeva la pena. Siamo arrivati! La spiaggia è bellissima, ma non è molto comoda. Per me la parte migliore era l'acqua, era così trasparente e rinfrescante. Sono così felice e calma quando sono in acqua. Wow, c'è un sacco di gente in spiaggia oggi. E' ora di tornare a casa. Usciamo per aperitivo e cenna. Siamo venuti in questo bar per vedere il tramonto, ma era troppo nuvoloso. Abbiamo mangiato la pizza e era così buona. Grazie per guardare questi video, alla prossima, ciao!